I prodotti professionali MedicalSood sono la scelta giusta per chi si occupa di cura e igiene degli anziani e di persone non autosufficienti. La manopola detergenza e il bavaglio impermeabile si presentano in confezioni di cartoni riciclabile, un monouso medicale a basso impatto ambientale che si adatta sia ad ambienti professionali che all'utilizzo in casa. MedicalSood è un'azienda certificata e qualificata, l'ideale per prenderti cura di chi ami. C'è un'azienda certificata, l'ideale per prenderti cura di chiama.